Ragazzi, finalmente mi sono deciso. Inizio i video sul TZ-T3. Ne ho fatti ormai parecchi di video, però devo dirvi che questo per me era difficilissimo. È il video, anzi, il primo di tanti video che per me sono difficilissimi. Perché? Perché io a questo strumento ci tengo tantissimo e ho paura, ho sempre paura, di fare troppo poco o non spiegarlo bene. Però le richieste ormai sono tantissime e quindi mi sono deciso. Farò una serie di video. Probabilmente saranno pubblicati sul canale di Furuno, però li metterò anche nel canale Davide Serafini dove spiegherò tutte le funzioni, tutte le caratteristiche, i motivi per cui io mi sono innamorato di questo strumento. Tutta la parte cartografia, la parte ecoscandaglio, la parte meteo e ovviamente gli optional che hanno questi strumenti. Parliamo del TZ-T3. In questo caso abbiamo un TZ-T3-12 che è il mio strumento personale. Su questi video farò girare un demo. Ovviamente su certe cose che vi spiegherò man mano non riuscirò a proprio darvi tutto, però sicuramente vi farete un'idea qual è il motivo per cui io amo tantissimo questo strumento. E come dico sempre toglietemi tutto, lasciatemi anche solo un rotolino di filo con un amo, ma non toglietemi questo strumento. E vi lo dimostrerò. Iniziamo. Quella che vedete qui adesso è la schermata iniziale dello strumento. Si inserisce la password. Compare l'avviso di navigazione che riguarda l'uso dello strumento. E qui siamo già nella cartografia. Questo strumento funziona in un modo veramente molto molto semplice. Tanti mi chiedono ma quanto è complicato, è molto complicato, FUR1 è difficile da usare? No. ITZT già dalla versione 1, ma soprattutto nella 2 e adesso nella 3, la FUR1 ha sviluppato tantissimo la tecnologia nel senso di semplificare al massimo i menu e le funzioni da fare. E c'è una logica che si usa su tutte le schermate, che è veramente semplicissima, basica. E' la prima cosa da imparare. Abbiamo in pratica tre menu. Un menu basso, un menu laterale, un menu sopra, se si può chiamare menu, e dopo eventualmente la barra dati che abbiamo qua di lato. Come vedete è tutto veramente molto 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 semplice. Con queste quattro funzionalità siamo in grado di accedere a praticamente tutti i dati più importanti che abbiamo su questo strumento. iniziamo dalla cartografia, quindi possiamo togliere il box dati. In questo momento sto utilizzando la cartografia Navionics e la vedete qui. Posso scegliere ovviamente tra anche una carta pesca, che è questa, fatta dalla C-Map, o la carta classica C-Map, ottenere la carta in automatico e sceglierà lo strumento in funzione di dove ci troviamo e quale carta è disponibile per quel luogo. Per quello che riguarda le carte farò un video a parte, perché anche su questo Fur1 è completamente diversa rispetto agli altri strumenti. Non abbiamo delle carte fisiche da comprare, delle schedine che si inseriscono dietro. No, le carte sono precaricate su una SD o si possono caricare tramite internet e semplicemente noi andiamo a acquistare dei codici di sblocco che vengono dati in funzione della macchina che uno possiede. Quindi con quel codice di sblocco noi andiamo qui, anzi su Fur1, carte, qua vado a inserire il codice di sblocco tramite questo tasto qui e sbloccherò le carte. Però farò un video, a parte proprio su questa procedura, che è semplicissima, però non posso fare tutto su questo video qui, perché sennò questo video diventerebbe veramente lunghissimo. Come vi spiegavo? Abbiamo qui di lato tutte le informazioni più importanti di navigazione, che stanno tutte quante qua. Abbiamo questa barra sotto che ci dà tutti i dati più importanti e le scelte che possiamo fare sulla nostra cartografia. Quindi scegliere quali carte, se avere degli overlay e gli oggetti che andiamo a mostrare sulle nostre carte. Facciamo un esempio. Io voglio vedere i punti, attivo i punti. Voglio vedere le foto? Attiverò le foto. Come vedete è tutto semplice. Foto. Cosa sono le foto? Sono una cosa fondamentale. Io le uso veramente tantissimo. Con le foto sono in grado di recuperare e andare a vedere un certo particolare o una cosa interessante che ho visto in un certo punto. Faccio un esempio. Faccio un altro esempio ancora più pratico. Vediamo un po'. Pescavo in questa zona. Posso andare a vedere cosa ho trovato in questa zona. Secondo me questa è una cosa molto più utile e importante rispetto ad ammettere semplicemente un waypoint. Perché il waypoint non sarà mai in grado di, diciamo, esprimere tutto quello che abbiamo visto. In questo modo, con una semplice foto dello schermo, che è semplicissima da fare, adesso vi mostrerò anche come si fa, noi siamo in grado di richiamare gli screenshot fatti proprio in quella posizione, in quel momento. Basta usare due dita e battere contemporaneamente sullo schermo. In questo momento io ho fatto questo screen. Screenshot acquisito. Un'altra cosa che faremo sicuramente in questi video è mostrarvi la parte Fish Finder e Coscandaglio. Abbiamo due possibilità. O andiamo sul menu principale e selezioniamo la pagina che più ci interessa, tra tutte le icone esposte. Ovviamente queste le ho create io e dopo vi mostrerò come si creano anche queste pagine, che anche questo è veramente molto semplice. Quindi andiamo a selezionarne una. Abbiamo selezionato quella dell'ecoscandaglio. Adesso non guardate la definizione di queste immagini perché purtroppo è un demo e quindi sul demo non si riescono a fare, diciamo come dire, troppe cose. Abbiamo un file caricato che comunque mi permette in qualche modo di lavorare e di farvi vedere quali sono le funzionalità. Anche in questa schermata, come per la cartografia, io ho la possibilità di attivare dei sottomenu. È il stesso sistema di prima. Menu dal basso verso l'alto, menu laterale, menu sopra. Adesso qui mi si sono cancellate le registrazioni perché sono in demo. In questo momento ho appena registrato la memoria su ecoscandaglio. La prossima volta che voglio cambiare schermata, basta che faccia così e così. Come vedete, semplicissimo. Proviamo a fare una schermata doppia. Quindi così. Scegliamo questa. Ecco scandaglio, cartografia. Cartografia andiamo a vedere appunto dove ci troviamo. Io in questo momento ho attivato la parte cartografia. Se vado da quest'altra parte, ovviamente posso attivare il ecoscandaglio. Torniamo sulla cartografia. Come vedete, di default mi ha messo anche un radar, un overlay. È sempre un demo, ricordo. Con la carta attivata, scorro verso l'alto, vado sugli overlay e tolgo gli overlay che a me in questo momento non interessano. Come vedete, ho pulito tutto. Se voglio andare a modificare l'ecoscandaglio, seleziono l'altra pagina, seleziono di nuovo il menu e qui posso andare a scegliere cosa voglio fare. Per esempio, modifichiamo la visualizzazione. Andiamo su frequenza singola. Come vedete, in questo momento ho la frequenza alta. Voglio cambiare frequenza, basta toccare qui e passo sulla bassa. Come vedete, il gain è altissimo perché sono tutti manuale. Torno qui, vado sulla modifica del gain e vado a regolarmi il gain nel modo corretto. Salviamo anche questa pagina. Basta toccare e la pagina è salvata. A questo punto andiamo solo su ecoscandaglio. Come vi dicevo, tutto molto molto semplice. In questo momento ho il range in manuale, quindi lo modifico con due dita. In questo momento sto operando con lo shift. Ho fatto un video sullo shift. Andatelo a cercare sul canale. Perché bisogna usare lo shift e non lo zoom. Per migliorare la visione posso usare anche il clutter. Come vedete, mi si variano ovviamente i target. Un'altra cosa che vi mostrerò, vi ricordo, queste sono solo delle piccole pillole. Non voglio mostrarvi tutto perché farò dei video dedicati, quindi iscrivetevi al canale se siete interessati, a tutte le funzionalità dell'ecoscandaglio. Adesso andiamo a vedere un'altra cosa. Andiamo a vedere il radar. Anche il radar sugli strumenti FUR1 sono veramente incredibili. Questo è il nostro radar. Stessa cosa. Abbiamo anche in questo caso il menu dal basso verso l'alto con tutti i dati più importanti. Quindi le regolazioni, gli overlay e gli oggetti. Quindi possiamo far vedere, non so, l'eco dei nostri target. Come vedete, in questo momento non vengono rappresentati. Faccio così. Adesso il radar inizierà a registrare la memoria di tutte le imbarcazioni, le cose che si muovono. Posso scegliere le tavolozze colori, ovviamente. Sul radar ho ovviamente anche tutte, posso andare ad agire su tutte le regolazioni manuale. Cosa che vi dirò? Realmente io non ne ho mai avuto bisogno, perché in automatico questo radar funziona veramente molto bene. Anche qui abbiamo sempre il classico menu laterale. Posso scegliere di far vedere i dati di navigazione o toglierli. Posso inserire delle posizioni. Posso andare a modificare la posizione del centro radar in un modo veramente semplicissimo. Oppure andare a allargare o restringere la zona di visualizzazione. un'altra cosa che posso fare, che qui su questo demo purtroppo non funzionerà, sulla cartografia andare sugli overlay e scegliere l'overlay del radar direttamente sulla carta. Qui, come vi ho detto, non può funzionare perché sono in una simulazione e i dati del radar non coincidono con la costa, con tutto quello che sta intorno. Però anche in questo caso posso mostrarvi quanto è semplice modificare tutte le varie opzioni per trovare la funzione che per noi è migliore. insomma una serie di video tutti dedicati su questa macchina perché ci sono tante cose da mostrarvi, da dirvi e non vedo l'ora di iniziare. Mi raccomando fatemi domande, chiedetemi tutto quello che volete. Per me è importantissimo perché le vostre domande servono anche per fare dopo nuovi video, nuove cose. Quindi se avete in mente qualcosa che vi interessa, volete conoscere meglio qualche particolare, qualche funzione particolare, non l'avete capita bene, scrivetemela qua sotto e nei video successivi, dove andrò a spiegare tutte le cose, terrò conto sicuramente anche delle vostre domande. Ancora una cosa, lo sto facendo per TZ-T3 ma ci sarà anche l'FCV 588 e la serie GP. Grazie e ci vediamo sul canale. Ciao ciao